Una lite tra ex fidanzati che ha poi coinvolto un'intera famiglia trasformandosi così in una vera e propria barra onda. È successo nei giorni scorsi alle porte di Sansepolcro dove i carabinieri hanno denunciato tre fratelli, un 23enne macedone pregiudicato e le sue due sorelle, una di 24 anni ed un'altra minorenne, tutti tra loro conviventi. Il tutto era partito da un acceso diverbio tra l'uomo e la sua ex compagna. Dalle parole poi si è però presto passati e fatti. Il litigio è infatti degenerato in una violenta aggressione a seguito di un'accesa reazione dell'uomo per le continue insistenze della donna che non si era rassegnata alla fine della loro relazione di tornare assieme. Durante la lite erano presenti anche le due sorelle del giovani, le quali, ispegabilmente, si sono scagliate contro l'auto in sosta dell'ex compagna del fratello danneggiando la carrozzeria. La donna ha anche riportato alcune lesioni a seguito delle percosse per i quali si sono rese necessarie le cure dei sanitari dell'ospedale.